È una bella giornata per il Partito Democratico. Voglio ringraziare di nuovo tutte le elettrici e gli elettori che ci hanno dato fiducia, chi ci ha confermato fiducia, chi è tornato a darci fiducia dopo anni e chi ci ha dato fiducia per la prima volta. Il Partito Democratico è il partito che è cresciuto di più dalle scorse elezioni politiche con 5 punti in più, 10 se consideriamo i sondaggi dell'inizio dello scorso anno, 2 in più dalle scorse europee del 2019 e, se guardiamo ad alcune circoscrizioni, in particolare al Sud, addirittura 7 punti in più rispetto alle scorse elezioni europee. Siamo i soli, insieme ad AWS, cui vanno i nostri complimenti, a crescere in termini assoluti, in voti in termini assoluti rispetto alle ultime elezioni politiche. Questo vuol dire che la distanza con Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si è accorciata in modo significativo, questo era uno dei nostri obiettivi. Se guardiamo nel particolare, questa distanza in termini assoluti alle scorse politiche è stata di 2 milioni di voti, si è ridotta a un solo milione di voti. Quindi il messaggio è chiaro, Giorgia Meloni, stiamo arrivando.